e buongiorno 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 e ancora buongiorno ma sono un po seduto qua qualcuno di dna diciamo vedete perché sbruffo stamattina vado a fare la spesa non mi crederete ma chi vado a incontrare il ciuccio l'allenatore della nostra hit quel ciuccio lì ma eravamo due o abbiamo chiesto spiegazioni lui ci ha detto di stare tranquilli perché il suo gioco si vede dopo i cinque anni amici miei terrestri se il gioco si vede dopo cinque anni noi aspettiamo anche perché c'era un vecchiettino che ha fatto ridere perché l'ha mandato a fare il culo ma scusa io sono 90 anni ma fra un po' finisco lì e devo morire con stare con l'agonia dell'iter e lui lui l'ha tranquillizzato guarda noi ci sono già passati due anni che ci sono io a quinto anno vedrai tre passaggi di fila il ciuccio il ciuccio non posso dire dove l'ho beccato perché però l'ho beccato qui vicino dove abito io all'esterno cari amici miei ma sapete una cosa è ancora più ciuccio se ci parlate vabbè comunque guarda buona giornata e buon lunedì a tutti va che è meglio perché è meglio che